Tecnicamente si chiama retribuzione di risultato, più semplicemente possono essere così definiti i compensi spettanti al personale per gli obiettivi raggiunti. Comunque li si chiami, siamo ben lontani dalla quattordicesima che in tanti, non tutti, riceveranno nella busta paga di luglio. 51 mila euro in tutto alla retribuzione da corrispondere ai dirigenti del Comune di Cremona per l'anno 2012, considerati gli obiettivi raggiunti e le competenze manageriali. Il documento è visibile a tutti sul sito del Comune. Il trattamento economico dei dirigenti degli enti locali da contratto nazionale è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, quest'ultima in misura variabile tra il 10 e il 25% della prima. Ma allora come saranno suddivisi questi 51 mila euro? Intanto va detto che a ciascun responsabile sarà assegnato un punteggio, una valutazione numerica del lavoro svolto. In cima alla classifica spicca Silvia Toninelli alle politiche educative con un punteggio di 97 su 100 e un'indenità di risultato di 4.800 euro. Seguono Carla Moreschi, lavori pubblici, guida badiglioni, servizi demografici e Eugenia Grossi, servizi sociali e territoriali e Pierluigi Sforza, vice comandante dei vigili. 91 di punteggio e indenità compresa tra i 2.500 e i 2.700 euro. 91 punti per Flaviana Sesena che avrà in busta paga quasi 1.500 euro, 90 per Elio Conzadori, settore eventi e turismo, Maria Carmen Russo, università in forma giovani e Mariano Venturini, direzione generale. Tutti riceveranno un compenso tra i 1.800 e i 2.200 euro. Chi prenderà solo, si fa per dire, 1.100 euro è Giovanni Donadio, settore progettazione e direzione lavori. Cifre decisamente contenute anche per Marina Volontè del sistema museale con un'indennità di circa 1.000 euro.